Ciao a tutti, come va? Come state? Per chi fosse nuovo, io sono Nadia, piacere, ho aperto questo canale da poco più di un mesetto e niente, sono tornata con un nuovissimo video, il mio primo video vlog, oggi è domenica, non mi ricordo esattamente il numero però boh, va bene, voi vedrete questo video... perché ho questa luce? Ok, sarà una luce a questo puntino... ok, voi vedrete questo video mercoledì, per chi non avesse visto il video precedente ho annunciato il fatto che a partire appunto dalla settimana prossima, dunque da questo lunedì usciranno ben due video alla settimana, di mercoledì e di venerdì fino alla fine di dicembre comunque mi sono alzata verso le 9 e mezza, ho fatto colazione con il tè e l'orociocco, quindi easy anche perché non avevo tanta fame, poi ho dovuto sistemare delle cose in camera e in salotto e ora sono le 12 e 30, pranzerò con il couscous essendo domenica, anche se non tutte le domeniche appunto mangiamo il couscous perché ci piace un po' variare e niente, oggi pomeriggio dovrei uscire, però il tempo devo dire che non è dei migliori, infatti dovrebbe piovere però vabbè, e niente, tralasciate un po' le mie condizioni super pessime, lo so comunque mi dà fastidio questa luce, aspettate... vabbè, non si risolve il problema, vabbè appunto stavo dicendo, tralasciate le mie condizioni super pessime, super cringe, via dicendo però sono stata poco bene, fino tipo a venerdì, infatti avevo febbre alta, tonsillite e robe varie però da ieri ho cominciato a riprendermi, quindi top adesso spiego in arabo per le persone appunto che non conoscono l'italiano salam come ti ho senti, inserito a tutti i ragazzi, ho avrei venuto a vedere video più无ile, video video vlog, oggi giorno la prima, vorrei sottotitare a fare un sacco molto bene, si potremmo a chagerare, dovrei potremmo a per le persone a che inizia cosa non mi piacerebbe da fare, ma su questa staglia un poche e perché mi piaceva si può essere pot première, non sai che. e io ho detto che i giorni di 2-3-4-5 e sono stato un amore molto e ho un po' di questo tipo, ho un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più e ho un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più è tipo, sono quasi le 2 e mia nonna e mia mamma hanno fatto il cuscuso, quindi adoro troppo adesso mangiamo raga, ci fissano tipo tutti, già coprimi, ok, cioè non coprimi il telefono comunque stiamo scendendo, siamo a Morbegno City e saluta vabbè adesso abbiamo appena finito di mangiare siamo, oddio, sto qua mi investe, aspetta ma che cao, calma Dio buono la mia gama è stato vabbè non vede, ma è cretino scusate raga per questo ci stanno passando, va ma che ca... ora siamo arrivati e ci sono riparci tipo shampoo e rape varie non mi potessero andare a prendere il cibo andiamo nella corsia appunto del cibo niente, questo qua è il mio mondo, cioè guardate quanta roba ho bisogno di una maschera cosa le consigliamo? ti consigliamo questa poi cosa le possiamo consigliare? ah queste qua queste qua le prendo anche io queste qua tipo no queste qui no oppure io che... vai a registrarmi io che ho tanti... questa non registra la taglia io che ho tanti punti neri io che ho tanti punti neri se cosa serve prendi si si questi qua cosa serve tu dici? si si fidati di me va bene dai ho fame andiamo siamo arrivati nella zona cibo vedete tipo le patatine le robe varie adesso andiamo a prendere tipo le... ho voglia stra tanto di coca cola tipo sedermi posso questa qui è la copertina del video vedete passare il primo articolo sul letto un letto di patatine si è scanalizzata la coppia di carta di carta di carta sferire i contatti oppure selezionare il tipo di pagamento la carta di carta di carta non adesso la insinuire i contatti oppure regoli pagati non libera mai non libera non libera non libera comunque raga sono tornata a casa già tipo mezz'oretta fa e adesso mi sa che mi faccio la doccia perchè tipo i miei capelli sono orrendi e anche un po' per rilassarmi tra virgolette non andrò a farmi il bagno bensì la doccia per fare un po' più in fretta e nulla ci vediamo dopo doccia finita appena finito neanche due minuti fa e adesso vado a vestirmi ed asciugare i capelli sicuramente da Milano City la pizza raga adoro 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 e la pizza non bastava anche le patatine comunque scusate la qualità del video molto molto pessima ma sto registrando dal telefono e poi è sera comunque raga ho finito di mangiare adesso e sono qui con mia sorella ciao sul suo letto guardiamo cioè finiamo di guardare il collegio dato che non l'abbiamo più finito di guardare e ci manca tipo un'ora e quaranta no sì no non capiamo siamo arrivati al minuto uno e quarantuno e cosa volevo dirvi ah sì la qualità del video come vedete è pessima perché appunto sto registrando di sera e ho solo la luce della come dice della camera accesa la lampada e fino a quando non acquisto la ring light smettila ehm la qualità sarà ancora un po' pessima però vi prometto che a breve la acquisterò e quindi i contenuti saranno un po' più curati tra virgolette comunque raga ho appena finito di guardare il collegio 5 con mia sorella ehm sono le 22 e 33 e nulla penso di guardare un po' tiktok youtube e un po' instagram e poi andare a dormire perché domani ho lezione sono un po' stanca comunque voglio spendere due parole per il collegio 5 secondo me è l'edizione più bella cioè mi è piaciuto anche il collegio 2 però il collegio 5 è proprio quello che mi ha fatto più ridere e niente sono un po' sad adesso che ho finito anche il collegio 5 non so quante volte ho detto collegio 5 ma ok comunque niente ehm spero che il video vi sia piaciuto se è così mettete un bellissimo like iscrivetevi al canale ci vediamo con un nuovo video venerdì sempre alle 15 ci vediamo ci vediamo ci vediamo grazie a tutti